Addominal Challenge con Vittoria e con Sonia e con me, settimana numero 13 Minuto numero 1 Quindi seguiamo in plank, due ginocchia alternati e su Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Con Vittoria e Stop Prepariamoci per minuto numero 2 E seguiremo in plank e due, tre, kick, gambe alternati Yes, I'll come back to you No, I won't ask where you run Under the sun Yes, I'll come back to you Then I'll ask what have we done Under the sun Yes, I'll come back to you Then I'll ask what have we done Under the sun Yes, I'll come back to you Then I'll ask what have we done Under the sun Yes, I'll come back to you Buonissimo, cominciamo con minuto numero 3 Quindi, walk in plank, once problem To be free Be a right paper that you can't fake Once you've begun And hold on the sun And hold on the sun Minuto numero 4 Spinta del vaccino e le crisis Sì Sì E siamo ultimo quinto minuto Ci mettiamo in reverse plank E andiamo a fare cross kick Gambe alternate Il seggiare rimane costantemente staccato dal pavimento Andiamo a fare cross kick E stop! Quindi anche settimana numero 13 abbiamo conclusa Alla prossima, ciao!